Palla a mano Lennardon va al portacol Cristina Lennardon 6 a 4 Bartoli, Bartoli Enrica, Bartoli Fanelli allarga tutto Per Chiara Bonamano Palo e Chiara Che botta di Bartoli E questo andrà fuori Per due minuti Rosso Rosso per Bartoli Poi avanza Piattello il tiro è il gol 11-9 Peretti Acchiappa il momento giusto Peretti Federica In avanti per Maruzella Il tiro Enrica Maruzella Più 6 Crosta Crosta Martina Crosta Ferretti Arriva il pallone Ferretti Porta Federica Ferretti 21-13 Se l'ha spostato Sul sinistro Cappelli Traversa E' un ruolo di Cappelli Poi il gol Crosta 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 Martina Crosta Ma il pallone Arbatico E' finita La Flavioni Batte per 28-23 cicoli E si qualifica Per la terza fase Uno dei risultati Più importanti C'è un ruolo di Cappelli Grazie a tutti